Ciao, benvenuto in questa serie di lezioni sulla armonia pratica per chitarra. Intendevo procedere in questa maniera, permetterti di scaricare singole lezioni video sugli argomenti che ti interessano, lezioni molto pratiche di rapida applicazione con il pdf e la lezione video. Quindi sull'armonia per chitarra e lezioni che sono propedeutiche all'improvvisazione, qualsiasi genere tu debba suonare, tu sia un principiante, un esperto. Se sei un esperto puoi proporre questo materiale sviluppato, già elaborato, molto utile, pratico, di rapida applicazione da eventualmente far fare i tuoi allievi. Se sei un principiante puoi imparare queste lezioni essenziali che riguardano le forme accordali, quindi le posizioni accordali aperte, chiuse, triadi maggiori, minori, con i rivolti, accordi sus4, sus2, combinati fra loro, gli accordi con la non aggiunta, undicesima aggiunta, sesta aggiunta, le solide famiglie di accordi minore, minore, maggiore, diminuito, eccedente, minore con la settima maggiore, minore con la settima minore, maggiore con la settima minore, maggiore con la settima maggiore, eccetera. Buona visione, buon lavoro, buon studio e buona musica a presto.